Quando la statale Perutran è chiusa, i viaggiatori sono costretti a prendere la strada di Stillwater, oltre a Swamphellov. In determinati luoghi, lo scenario è stupendo, ma per qualche ragione la strada gode da alcuni anni di cattiva fama. C'è qualcosa di deprimente in quel tratto, specie quando ci si avvicina a Stillwater, quando avvistano la fattoria dalle imposte sbarrate. Che sorge sull'altura a nord del villaggio, gli automobilisti provano un certo disagio, e questa sensazione aumenta all'apparire dell'idiota che frequenta l'antico Camposanto a sud, immerso in certe sue discussioni con gli occupanti di determinate tombe. The Stillwater non rimane molto al giorno d'oggi. La terra è abbandonata e gran parte degli abitanti si sono spostati nelle comunità oltre il fiume e nella città, che si trova al di là dei monti remoti. Il campanile della vecchia chiesa bianca è crollato, le metà della ventina di case sparse sono deserte e in vari stati di abbandono. La vita normale continua a svolgersi solo intorno all'emporio stazione del servizio di Peck, ed è lì che a volte i curiosi si fermano per fare qualche domanda sulla casa sbarrata e l'idiota che chiacchiera con i morti. Per la maggior parte questi viaggiatori se ne vanno con un senso di disagio e inquietudine, perché i perdigiorno in cui si imbattono non hanno un'aria molto socievole e parlando degli avvenimenti del passato accennano a cose tutt'altro che piacevoli. Nel tono che usano c'è anche di minaccioso e straordinario, anche per dire cose del tutto normali. Una tendenza apparentemente ingiustificata ad assumere un'aria furtiva, allusiva e confidenziale, e in certi punti a cadere in bisbigli paurosi che disturbano l'ascoltatore in modo sottile. I vecchi Yankee parlano spesso a quel modo, ma, nel nostro caso, l'aspetto malinconico del villaggio in disfacimento, nel carattere cupo della storia, aggiungono un nuovo significato a questi modi tetri e furtivi. Si sente fino in fondo l'orrore essenziale che si cela nel puritano isolato dal mondo e nelle sue bizzarre forme di repressione. E una volta sentito, non si deciderà altro che precipitarsi in un'aria più pulita. I frequentatori dell'emporio mormorano in maniera importante che la casa sbarrata è quella della vecchia signorina Sprang, Sophie Sprague, il cui fratello Tom fu seppellito il 17 giugno dell'86. Dopo il funerale, Sophie non fu più la stessa. Già, dopo il funerale. E l'altra cosa che avvenne lo stesso giorno. Da allora in poi non uscì più di casa. Non lo fa neanche adesso. Lascia la lista della spesa sotto lo sfoino della porta, sul retro, e si fa portare la roba del ragazzo di Ned Peck. Ha paura di qualcosa. Soprattutto del vecchio camposanto di Swampolov. Da quando suo fratello e quell'altro furono seppelliti, non ci si è mai accostata. Non c'è troppo da meravigliarsi, visto il modo in cui si comporta il matto Johnny Doe. Tutto il giorno bichellona dalle parti del camposanto, a volte anche di notte, e sostiene di parlare con Tom e l'altro. Poi si dirige verso la casa di Sophie e comincia ad urlare. Ecco perché lei tiene le imposte chiuse. Johnny le grida che prima o poi quei due usciranno e verranno a prenderla. Bisognerebbe impedirglielo, ma non si può essere troppo severi col povero Johnny. Inoltre, Steve Barbour ha le sue opinioni sulla faccenda. Johnny parla con due tombe in particolare. Una è quella di Tom Sprague. L'altra, all'estremità opposta del camposanto, è quella di Harry Thorndike, seppellito lo stesso giorno. Harry era l'impresario di pompe funebri del villaggio. L'unico nel raggio di parecchi chilometri. E Stillwater non gli era mai piaciuta. Lui veniva dalla città, Rudend. Era stato al college e aveva letto parecchi libri. Cose strane di cui nessuno aveva mai sentito parlare. L'altra sua passione consisteva nel mescolare sostanze chimiche. Non certo per qualche buon motivo. Cercava sempre di inventare qualcosa di nuovo. Un fluido imbalsamatore dai poteri straordinari. O magari un pazzesco medicinale. C'era chi diceva che avesse tentato di fare il medico e avendo fallito si fosse rivolto alla professione più vicina. Ovviamente in un posto come Stillwater non c'era grande attività per un impresario di pompe funebri. Ma lui faceva anche l'agricoltore. Era un brutto soggetto. Un tipo morboso. E a giudicare dalle bottiglie vuote nel secchio della spazzatura un bevitore segreto. Non c'è da stupirsi che Tom Sprang lo odiasse e non lo facesse ammettere nella loggia massonica. E quando Henry aveva fatto dei passi verso Sophie l'aveva diffidato. Gli esperimenti di Harlitorn Dyke sugli animali erano contrari alle leggi di natura e alla Bibbia. Chi potrà dimenticare lo stato in cui fu trovato il povero Colli e ciò che avvenne al gatto della signora Achillei e il vitello del diacono Leavitt. Quella volta Tom aveva guidato una banda di ragazzi del villaggio per chiedere spiegazioni. La cosa strana era che il vitello alla fine risultò vivo anche se Tom l'aveva trovato rigido come un attizzatoio. Qualcuno disse che avevano voluto fare uno scherzo a Tom ma è probabile che Thorne Dyke la pensasse diversamente perché prima che il suo errore venisse scoperto crollò sotto i pugni del nemico. Ovviamente Tom in quel momento era mezzo ubriaco. La migliore definizione che se ne possa dare è che si trattava di un brutto e un violento e la sua povera sorella era soggetta alle sue minazze. Forse per questo è una creatura così spaventata. Erano rimasti orfani e Tom non le avrebbe mai permesso di andarsene per non dover dividere la proprietà. La maggior parte dei ragazzi avevano troppa paura di lui per fare la corte a Sophie. Tom era alto più di un metro e ottanta senza scarpe ma Harry Thorne Dyke era un tipo subdolo e sapeva far le cose alle spalle della gente. Non era granché bello ma Sophie non lo scoraggiò affatto. Per quanto brutto e cattivo gli sarebbe stata grata se l'avesse liberata da suo fratello. Probabilmente continuava a pensare come sbarazzarsi di lui dopo essersi liberata di Tom. Bene, così stavano le cose nel giugno 86 e fino a quel momento le chiacchiere di quelli che frequentano l'emporio di Peck non hanno nulla di stravagante. Ma poi continuano ed ecco il mistero la terribile tensione. Sembra che Tom Sprang andasse di tanto in tanto a Rutland a far balloria e che questi momenti di assenza fossero la grande opportunità di Harry Thorne Dyke. Quando tornava a casa Tom era sempre in pessima forma e il vecchio dottor Pratt per quanto sordo e mezzo cieco lo metteva in guardia dai rischi che correva al suo cuore e dal pericolo del delirium tremens. I vecchi sapevano quando Tom era in casa dalle urla e bestemmie che lanciava. Fu il 9 giugno un mercoledì il giorno dopo che il giovane Uosha Goodenug ebbe finito di costruire il suo novissimo silo che Tom partì per l'ultima e più lunga balloria. Tornò il successivo martedì mattina e la gente che passava l'emporio lo vide frustare il suo stallone vaio come era solito quando il whisky si era impossessato di lui. Poco dopo da casa Sprague vennero urla grida e bestemmie e Sophie fu vista correre dal vecchio dottor Pratt alla massima velocità. Il dottore la seguì e si trovò in presenza di Thorndike e Sprang. Tom giaceva sul letto in camera sua con gli occhi sbarrati e la bava alla bocca. Il vecchio Pratt si diede da fare seppur goffamente e fece i soliti controlli poi scuotè la testa in modo grave e disse a Sophie che aveva sofferto una grande perdita e che il suo parente più caro e più vicino aveva attraversato i cancelli d'avorio che conducono a un'esistenza migliore proprio come tutti sapevano che sarebbe avvenuto se non avesse smesso di bere. Sophie era l'unica persona che in quel momento fosse utile a Thomas Sprang poi gridò qualcosa al vecchio dottor Pratt mezzo sordo a proposito del fatto che viste le condizioni di Tom il funerale andava sbrigato subito. Gli ubriaconi come lui sono soggetti particolari e qualsiasi ritardo inutile soprattutto in una comunità di campagna come quella avrebbe provocato conseguenze poco gradevoli per la vista e per gli altri sensi dei parenti dell'estinto. Il dottore borbottò che con la sua carriera di alcolista Tom si era già da tempo imbalsamato da solo ma Thorndike lo assicurò del contrario e al tempo stesso vantò la propria abilità e i metodi superiori che aveva scogitato con i suoi esperimenti. È a questo punto che i frequentatori dell'emporio cominciano a fare racconti più sinistri. Fino al momento della morte di Tom la storia viene raccontata di solito da Ezra Davenport o Luther Free se Ezra li ha letto coi genitori come a volte gli capita d'inverno. Ma da quel momento in poi il filo viene preso da Kelvin Vailer che ha una voce capace di esprimere in modo agghiacciante tutto l'orrore segreto della vicenda. Se Johnny Do passa da quelle parti il racconto si interrompe perché alla gente di Stillwater non fa molto piacere che Johnny parli con i forestieri. Kelvin si avvicina al curioso di turno e a volte gli afferra il bavero della giacca con una mano nodosa e macchiata tenendo socchiusi gli occhi azzurri e acquosi. Dunque signore mormora arriva a casa e comincia a fare quello che deve fare un vecchino. Johnny Do lo scemo lo aiuta perché faceva sempre qualche lavoretto per lui. Henry chiede al vecchio dottor Pratt e a Johnny di dargli una mano a mettere a posto il cadavere. Il dottore diceva sempre che Henry parlava troppo si vantava di essere un grande artigiano e che fortuna era per Stillwater avere un vero impresario di pompe funebri invece di un semplice becchino come per esempio Whitby. Immaginatevi dice Henry che a qualcuno vengano quei crampi che paralizzano tutto il corpo come a volte si legge. Mica gli piacerebbe essere calato nella fossa e coperto di terra mica gli piacerebbe soffocare sotto una bella lapide nuova costretto a battere e a grattare ammesso che ne avesse la forza sapendo che è tutto inutile. No signore vi dico che è una benedizione per Stillwater avere un medico che sa il fatto suo e sa riconoscere un uomo morto da uno che non lo è. È un impresario di pompe funebri sa come deve sotterrare un cadavere in modo che si rimanga senza guai. Così parlava Henry e a volte si rivolgeva direttamente ai resti del povero Tom al vecchio dottor Pratt quel poco che capiva non piaceva affatto anche se Henry l'aveva chiamato un dottore che sapeva il fatto suo. Tony il matto continuava a guardare il corpo e le cose che borbottava di tanto in tanto non erano piacevoli. Non è freddo Doc oppure vedo che muove le palpebre o c'è un buco nel suo braccio come quando Henry mi fa una siringa della roba che mi fa star bene. A questo punto Tom Dyke gli ordina di stare zitto ma tutti sapevano che dava la droga al povero Johnny. È un miracolo se quel disgraziato è riuscito a tirarsene fuori. Ma la cosa peggiore secondo il dottore fu il modo in cui il corpo sussultò quando Henry cominciò a iniettare il liquido conservante. Si vantava di una nuovissima formula che aveva sperimentato su gatti e topi ma proprio in quel momento il corpo di Tom si piegò in due come fosse vivo e pronto a saltar su. Desù Doc disse che si era spaventato moltissimo anche se conosceva le reazioni dei cadaveri quando i muscoli cominciano a irrigidirsi. Beh signore per farla breve il cadavere si sollevò ed è di un urtone alla sirinca di Thorndike in modo che l'ago si piantò nella carne del vecchino e gli scaricò nelle vene una bella dose di liquido imbalsamatore. Questo spaventò Henry un bel po' ma si strappò l'ago e riuscì a stendere il corpo di nuovo iniettandogli la dose completa. Intanto continuava a misurare il liquido rimasto come per essere sicuro che fosse abbastanza e che in lui non ne fosse entrato troppo. Proprio allora Don e il matto cominciano a cantare è la stessa dose che hai dato al cane di Mike Hopkins che prima sembrava rigido e stecchito e poi si è tirato su adesso morirai e diventerai secco come Tom Sprang ricorda se non te ne fai molta ti vuole parecchio tempo prima che faccia effetto. Sophie era al piano di sotto con certi vicini la cui mia moglie Matilde morta da 30 anni cercavano di appurare se Thorndike era in casa quando Tom era tornato e se il fatto di averlo trovato con sua sorella avesse fatto perdere il lume degli occhi al povero Tom. Giuro che a molti sembrava maledettamente strano che Sophie non piangesse o che non trovasse niente da ridire nel modo in cui Becchino aveva sugghignato. Nessuno pensava che Henry avesse fatto fuori Tom con uno dei suoi miscugli o che Sophie se ne sarebbe stata buona se l'avesse sospettato. Ma sapete come la gente mormora dietro le spalle. Tutti sapevamo che Thorndike odiava Tom come un pazzo non senza ragione ed Emily Barber disse alla mia Matilde che Henry era proprio fortunato ad aver avuto il vecchio dottor Pratt a disposizione per redigere il certificato di morte. Così non potevano esserci dubbi per nessuno. Quando il vecchio Kelvin arriva a questo punto di solito comincia a borbottare frasi incomprensibili che si perdono nella barba bianca rada e sporca. La maggior parte degli ascoltatori cercano di allontanarsi da lui ma è un gesto quasi superfluo. Fred Peck che all'epoca era solo un ragazzino riprende allora il suo racconto. Il funerale di Thomas Prang fu celebrato giovedì 17 giugno solo due giorni dopo la morte. Nella remota isolata Stillwater una simile fretta viene giudicata quasi indecente perché la gente che arrivava da fuori doveva percorrere grandi distanze ma Thor Dike insistì che le particolari condizioni del cadavere lo imponevano. Il vecchino era sembrato piuttosto nervoso durante la vestizione del corpo e più volte era stato visto tastarsi il polso. Il vecchio dottor Pratt pensò che fosse preoccupato per l'iniezione accidentale di liquido conservante. Ovviamente la storia del cadavere che si era alzato aveva fatto il giro del paese e un doppio zelo animava i convenuti che si erano riuniti per soddisfare la propria curiosità e il loro morboso interesse. Thor Dike benché evidentemente preoccupato era intento a fare il suo dovere professionale in modo magnifico. Sophie e altri che esaminarono il corpo furono colpiti dalla sua assoluta vivacità e il virtuoso dell'imbalsamazione vuole rendersi doppiamente sicuro dell'esito del suo lavoro ripetendo determinate iniezioni a intervalli fissi. La cittadinanza e gli ospiti loro malgrado provavano per Thor Dike una sorta di rispetto che lui tuttavia sciupava con le sue vanterie e osservazioni di cattivo gusto. Ogni volta che si avvicinava al suo silenzioso cliente ripeteva l'instancabile ritornello secondo cui era una gran fortuna per Stillwater poter contare su un impresario di prima qualità. Poi rivolgendosi direttamente al corpo faceva che guaio se Tom fosse caduto nelle mani di uno di quegli individui poco scrupolosi che seppelliscono vivi i loro clienti. Il modo in cui indulgeva sugli orrori del seppellimento prematuro era veramente barbaro disgustoso. Il servizio fu celebrato nella stanza più grande della casa aperta per la prima volta dopo la morte della signora Sprang. Il piccolo organo da salotto scordato mugugnò sconsolatamente e la vara sorretta da appositi sostegni presso la porta che dava in corridoio fu coperta di fiori dall'odore nauseante. Era chiaro che una folla senza precedenti si andava raccogliendo da vicino e da lontano e a loro beneficio Sophie si sforzò di mostrarsi debitamente addolorata. Nei momenti in cui non si sentiva osservata pareva un tempo stupita e a disagio e divideva i suoi sguardi fra il febbrile organizzatore della cerimonia e il corpo quasi vivo di suo fratello. Sembrava crescere in lei il disgusto per Thor Dyke e i vicini dicevano apertamente che ormai scomparso Tom Sophie avrebbe mandato al diavolo anche il becchino ammesso di riuscirci ovviamente perché un furbone come quello non era facile da trattare ma con i suoi soldi e quel che restava della sua bellezza sarebbe riuscita a trovare un altro uomo e lui si sarebbe occupato di sistemare Henry. Mentre l'organo pompava Beautiful Eyes Love Somewhere il coro della chiesa metodista aggiunse le sue lugubri voci a quell'orrenda cacofonia e tutti guardarono devotamente il diacono Levitt cioè tutti meno John Doe che teneva gli occhi incollati sulla sagoma immobile sotto il vetro della bara lui borbottava piano fra sé Stephen Barbour della fattoria vicina fu l'unico a notare Johnny era brividì perché l'idiota parlava direttamente al cadavere e faceva segnali assurdi con le dita come per farsi beffe di colui che dormiva sotto il coperchio di cristallo Tom riflette Stephen Barbour aveva più volte presa calzi Johnny anche se non senza motivo c'era qualcosa in tutta la cerimonia che a Stephen dava sui nervi nell'aria si avvertiva una tensione repressa un chied inquietante di cui non riusciva a darsi conto Johnny non avrebbe dovuto avere il permesso di entrare in casa e lo sforzo che Tom Dike si imponeva per non guardare il corpo era per lo meno strano ogni tanto l'impresario di pompe funebri si tastava il polso con un'espressione curiosa il reverendo Silas Atwood ronzava a proposito dello scomparso in tono piatto e pianucoloso e come la spada della morte fosse calata in mezzo a quella famigliuola per recidere il legame terreno fra il fratello e la sorella che tanto si amavano parecchi vicini si guardarono furtivamente a vicenda sotto le palpebre abbassate mentre Sophie cominciava veramente a singhiozzare dal nervosismo Tom Dike le andò vicino e cercò di rassicurarla ma lei si allontanò in modo evidente i movimenti dell'impresario di pompe funebri erano senz'altro goffi e anche lei sentiva acutamente la tensione di cui era permeata l'atmosfera finalmente consapevole dei suoi doveri come maestro di cerimonie fece un passo avanti e annunciò con voce sepolcrale che il corpo poteva essere visto per l'ultima volta lentamente amici e vicini sfilarono davanti al catafalco da cui Tom Dike allontanò rudemente Johnny lo scemo pareva che Tom dormisse in pace durante la vita quel mascalzone era stato un bel uomo alcuni singhiozzi genuini e molti contraffatti risuonarono nella stanza ma la maggior parte della folla si accontentò di gettare un'occhiata con curiosità e mormorare poi Steve Barbour si soffermò a lungo e con attenzione sul viso immobile e allontanandosi scotè la testa sua moglie Emily che lo seguì bisbigliò che Henry Thor Dike avrebbe fatto meglio a non vantarsi del suo lavoro perché gli occhi di Tom si erano aperti quando era cominciata la funzione erano chiusi e lei personalmente era andata a controllare sembravano due occhi normalissimi non come ci si aspetta dopo due giorni quando Fred Peck arriva a questo punto si interrompe come se non avesse intenzione di continuare ormai l'ascoltatore si rende conto che lo aspetta qualcosa di sgradevole ma Peck rassicura il suo pubblico affermando che i fatti non sono così terribili come alla gente piace far credere nemmeno Steve dichiarò apertamente quel che forse pensava e quanto al vecchio Johnny è ovvio lui non conta aspetta Luella Morse alla vecchia zitella nervosa che cantava nel coro il primato di aver fatto precipitare le cose sfilò vicino alla bara come gli altri ma si fermò a guardare più a lungo di tutti a parte i barbur poi di colpo cacciò un urlo e cadde svenuta come ovvio la stanza piombò subito nella confusione il vecchio dottor Pratt si fece strada aggomitate verso Luella e chiese dell'acqua da spruzzarla in faccia ma altri si fecero avanti per osservare lei e la bara Johnny Do cantile no la sese lui sa lui sa può sentire tutto quello che diciamo e vedere quel che facciamo e lo seppelliranno così ma nessuno tranne Steve Barbour perse tempo a decifrare i suoi morborii in pochi minuti Luella riprese i sensi ma non riuscì a dire esattamente cosa l'avesse colpita tutto ciò che poteva albettare fu è l'aspetto che aveva l'aspetto che aveva ma ad altri osservatori il corpo sembrava sempre lo stesso era una vista agghiacciante questo sì per via degli occhi aperti e del colorito perfetto poi la folla eccitata notò qualcosa che per un po' la distrasse completamente da Luella e dal corpo si trattava di Tom Dyke sul quale l'improvviso clamore e l'agitazione della gente sembravano avere un pessimo effetto nel trambusto qualcuno doveva averlo urtato perché era finito sul pavimento e cercava di mettersi a sedere l'espressione della sua faccia era terrificante e gli occhi cominciavano ad assumere un'espressione vitrea smorta non riusciva a parlare ad alta voce ma il rantolo che gli usciva dalla gola conteneva una disperazione che non poteva sfuggire a nessuno portatemi a casa presto e lasciatemi stare il fluido che mi è entrato nel braccio per errore agisce sul cuore questa maledetta eccitazione è troppo aspettate aspettate non pensate che sono morto anche quando lo sembrerò è solo il fluido portatemi a casa e aspettate verrò più tardi non so quando conserverò la coscienza per tutto il periodo saprò quello che succede non fatevi ingannare mentre le sue parole svanivano nel nulla il vecchio dottor Pratt gli andò vicino e prese il polso lo tenne parecchio tempo poi scosse la testa non serve prestargli soccorso è andato non aveva il cuore in buone condizioni e quella roba che gli è entrata nel braccio deve essere terribile non so che cos'è la compagnia sembrò annichilita un altro morto nella camera ardente solo Steve Barbour ripensò alle ultime parole di Thorndike era proprio morto anche se lui stesso aveva detto di poterlo sembrare non sarebbe stato meglio aspettare un poco per assistere agli sviluppi e a questo punto non conveniva che Doc Pratt desse un'altra occhiata a Tom Sprang prima di seppellirlo Johnny il matto mugolava qualcosa e si era buttato su Thorndike come un cane fedele non lo sotterrate non lo sotterrate non è più morto del cane di Mike Hopkins o del vitello del diacono Leavitt quando gli fece la dose c'è iniettato una roba che serve a far sembrare morto uno che non lo è pare un cadavere e invece sente e vede tutto e il giorno dopo torna buono come prima non lo sotterrate come farà a tirarsi fuori è un bravo uomo mica come Tom Sprang prego Dio che Tom soffochi nella fossa e si spezzi le unghie a furia di grattare contro il coperchio ma nessuno tranne Barbour prestava attenzione al povero Johnny anzi quello che Steve aveva detto poco prima era caduto nel vuoto l'incertezza regnava a sovrana il vecchio dottor Pratt procedeva agli ultimi controlli e borbottava qualcosa sui moduli per i certificati di morte e il servile Elder Edwood già proponeva che si preparasse una doppia sepoltura morto Tom Dyke non c'era nessun becchino prima di Rutland e farne venire uno dall'aggiù avrebbe comportato una spesa fantastica ma se non avessero imbalsamato Tom Dyke col caldo che faceva giugno beh non si poteva mai dire e non c'erano parenti o amici a opporre il loro veto a meno che non ci pensasse Sophie ma Sophie era dall'altra parte della stanza e fissava in silenzio e in modo quasi morboso la barra del fratello il diacono Levitt cercò di restaurare una parvenza di decoro e fece trasportare il povero Thor Dyke nel soggiorno al di là del corridoio mentre Dennis Wells e Walter Perkins furono mandati in casa dell'impresario per scegliere una barra delle giuste dimensioni la chiave era nella tasca dei pantaloni di Henry Johnny continuava a pianucolare e carezzare il corpo ed Elder Redwood si preoccupò di stabilire a quale confessione appartenesse Thor Dyke perché alle funzioni locali non aveva partecipato mai quando fosse dato che i suoi parenti a Rutland ormai tutti morti erano stati battisti il reverendo Silas decise che il diacono Levit era il più indicato a dire una breve orazione fu una giornata di gala per gli appassionati di Ezequie di Stillwater e dintorni perfino Luella si era ripresa a sufficienza e poteva partecipare i pettegolezzi mormorati o appena sussurrati passavano indaffarati dall'uno all'altro mentre il corpo rigida e sempre più freddo di Thor Dyke veniva composto Johnny era stato cacciato di casa come molti sostenevano che si sarebbe dovuto fare fin dall'inizio ma ogni tanto le sue urla lontane si facevano sentire orrendamente quando il corpo fu messo nella vara e posto a fianco di quello di Thomas Bragg la silenziosa e quasi terrificante Sophie lo osservò a lungo come aveva osservato quello di suo fratello non aveva detto una parola per un pericoloso lasso di tempo e l'espressione mista del suo volto andava al di là di ogni descrizione o interpretazione mentre gli altri si ritiravano per lasciarla sola con i morti Sophie riuscì a pronunciare una sorta di discorsetto meccanico di cui nessuno capì le parole in realtà sembrava che parlasse prima a un corpo e poi all'altro poi con quello che a un osservatore esterno sarebbe parso il colmo dell'umorismo nero involontario la pacchianata funebre fu ripetuta senza ritegno di nuovo l'organo si sforzò di pompare di nuovo il coro stonò e ruppe le orecchie di nuovo il mormorio ipnotico si diffuse fra la gente e gli spettatori curiosi fino al parossismo sfilarono davanti al macabro santuario stavolta un doppio schieramento di catafalchi alcuni dei più sensibili rabbrividirono e ancora una volta Steve Barbour ebbe l'impressione che ci fosse qualcosa di terribile in tutta quella storia dio come erano vivaci quei due con quanta ansia il povero Tom Dyke li aveva scongiurati di non considerarlo morto come aveva odiato Tom Sprague ma che si poteva fare di fronte al buon senso un morto è un morto c'era il vecchio Doc Pratt a confermarlo con tutti i suoi anni d'esperienza se nessun altro si preoccupava perché doveva preoccuparsi lui Tom probabilmente aveva meritato quello che aveva ricevuto di qualunque cosa si trattasse e se Henry gli aveva fatto del male il conto era parezzato ora Sophie era libera mentre la processione degli spettatori si dirigeva finalmente verso il corridoio e la porta di casa ancora una volta Sophie rimase sola con i morti Elder Atwood era in strada e parlava con il cocchiere del carro noleggiato alla stalla di lì mentre il diacono Leavitt stava cercando di mettere insieme una doppia squadra di portantini per fortuna il carro funebre avrebbe retto le due bare ma non c'era fretta Ed Plummer ed Ethan Stone si erano avviati coi badili per scavare la seconda fossa la cavalcata poteva contare su tre carrozze a nolo e quanti calessi privati si voleva inutile tentare di tenere la folla lontana dalle tombe poi venne l'urlo disperato dal salone in cui si trovavano Sophie e i due cadaveri fu così improvviso da paralizzare la folla e provocò la stessa agitazione del grido di Luella col relativo svenimento Silver Bur e il diacolo Leavitt si avviarono verso la casa ma prima che facessero in tempo ad entrare Sophie uscì di corsa singhozzando e alzimando a proposito di quella faccia alla finestra quella faccia alla finestra nello stesso momento un individuo dall'espressione folle sbucò da dietro l'angolo della casa svelando il mistero del drammatico grido di Sophie era senz'altro il proprietario di quella faccia il povero Johnny che cominciò a saltare di qua e di là indicando Sophie e gridando lei sa lei sa glielo ho visto in faccia quando li ha guardati e si è messa a parlare con loro lei sa ma li farà scendere nella terra costringendoli a grattare la cassa e aspettarsi le unghie per cercare un poco d'aria ma loro parleranno si faranno sentire parleranno e le appariranno e un giorno torneranno e verranno a prenderla Dennis Wells si trascinò l'idotto urlante in un capanno dietro la casa e lo chiuse dentro come meglio poter gli strilli e i pugni di Johnny si potevano sentire anche da lontano ma ormai nessuno gli prestava attenzione la processione si ricompose e con Sophie in prima fila coprì lentamente la breve distanza che separava il villaggio dal camposanto di Swamp Hollow quando Thomas Sprague fu calato nella fossa Elder Edwood fece appropriate osservazioni e quando ebbe finito Ed e Ethan avevano scavato la tomba di Thorndike all'altro capo del cimitero dove la folla finalmente si spostò poi il diacono Levitt tenne un discorso fiorito e anche la seconda bara fu calata nella fossa la gente aveva cominciato ad allontanarsi a gruppetti e quando le pale ricominciarono a volare il rumore di calessi e carrozze sovrastava tutto mentre la terra copriva le bare prima quella di Thorndike Steve Barbour notò le misteriose espressioni che si alternavano sulla faccia di Sophie Sprague non poteva ricordarsene tutte ma dietro quegli occhi brillava una sorta di amaro perverso e malcelato sguardo di trionfo Steve scotè la testa Zenas era tornato indietro e prima che Sophie rientrasse in casa aveva liberato Johnny dal capanno il poveretto si precipitò al camposanto dove arrivò prima che gli spalatori avessero finito e dove alcuni partecipanti al funerale si trattenevano ancora i sopravvissuti di quei giorni tremano ancora nel ricordare quello che Johnny gridò sulla tomba di Tom Sprague riempita almeno in parte e come affondò le mani nella terra fresca di quella di Thorndike appena finita all'estremità opposta del cimitero Jonathan Blake il poliziotto dovette portarlo con la forza in città e le sue urla erano terribili a questo punto di solito Fred Peck smette di raccontare che altro c'è da dire si domanda fu una terribile tragedia c'è poco da meravigliarsi che da quel giorno Sophie diventò un poco tocca e se l'ora è tarda e il vecchio Kelvin Veller si è già trascinato nella sua casa la storia finisce qui ma quando è ancora in giro gli piace aggiungere un epilogo in quel suo modo insidiosissimo di dire e non dire e a volte quelli che lo hanno ascoltato hanno paura di passare davanti alla casa dalle imposte sbarrate o al cimitero specie dopo il tramonto eh eh Fred era solo uno sbarbatello allora e ricorda appena la metà di quello che successe volete sapere perché Sophie tiene la casa sbarrata e perché Johnny lo scemo continua a parlare coi morti e a gridare alle finestre della vecchia beh state a sentire non saprò tutto quello che c'è da sapere ma le orecchie per sentire ce l'ho qui il vecchio sputa il bolo di tabacco e si piega verso l'ascoltatore come per inchiodarlo fu quella notte stessa anzi verso mattina giusta otto ore dopo il doppio funerale fu allora che sentimmo le urla dalla casa di Sophie ci svegliamo tutti Steve e Emily Berbur io e Matilde e uscimmo come siamo a piedi conciati per la notte Sophie la troviamo vestita di tutto appunto ma svenuta sul pavimento del soggiorno fortuna che non si era chiusa in casa quando rinviene trema come una foglia ma non vuol dire una parola su quello che la tormenta Matilde e Emily fanno quello che possono per quietarla ma Steve comincia a dirmi una serie di cose che non mi fanno sentire per niente tranquillo si fa l'ora che dobbiamo andare tutti a casa ma Sophie piega la testa da un lato come se sentisse qualcosa poi di colpo urla di nuovo e sviene fra le nostre braccia guardate che racconto fatti veri mica teorie come quelle di Steve Berbur che oltretutto non ne aveva il coraggio vi era imbattibile nel mettervi in testa certe cose ma dieci anni fa morì di polmonite quello che sentivamo in lontananza era il povero Johnny si capisce non c'è più di un chilometro e mezzo da qui al camposanto e io credo che quel povero scemo deve essere uscito dalla finestra della casa di custodia della città anche se il polizzotto Blake giura che quella notte lui non andò fuori fatto sta che da allora in poi l'idiota si aggira fra le tombe e parla ai due morti sulla fossa di Tom bestemmea e tira calci ma su quella di Henry mette fiori e altre cose e quando non è impegnato al cimitero va sotto le finestre chiuse di Sophie e grida che presto verranno a prenderla lei non osa accostarsi al camposanto e ormai non esce più nemmeno a salutare i vivi dice che c'è una maledizione a Stillwater e che sia dannato se non penso che ha ragione almeno per metà lo vedete da voi come vanno in rovina le cose in questi tempi comunque era un po' tocca già allora una volta Sally Hopkins la va a trovare nel 97 o 98 mi pare e alle finestre si sente un battere spaventoso e a quell'epoca Johnny era rinchiuso almeno così giura la gente d'oggi personalmente non ci credo alle loro storie sui rumori che si sentono ogni 17 giugno o alle figure fosforescenti che cercano di entrare dalle porte e dalle finestre di Sophie ogni notte senza luna verso le due comunque fu verso le due che Sophie sentì quello che sentì la notte dopo il funerale e svenne due volte Steve Matilde Emily e io abbiamo sentito solo il secondo suono in lontananza proprio come vi ho detto e vi ripeto deve essere stato Johnny l'idiota che era scappato nel campo santo John Black può dire quello che gli pare mica si può distinguere la voce di un Cristo da tanto lontano e non c'è da meravigliarsi che noi con la testa imbottita di sciocchezze come eravamo abbiamo creduto che le voci fossero due due voci che non avrebbero potuto parlare per niente Steve diceva che lui aveva sentito meglio di me giuro sul mio onore che quello credeva nei fantasmi Matilde ed Emily erano così spaventate che non si ricordarono più di quello che avevano sentito è strano ma ammesso che ci fosse ancora della gente sveglia a quell'ora sconsacrata nessuno in città raccontò di aver sentito voci o suoni avrebbe potuto essere il vento se non fosse per le parole qualcuno la capì anch'io ma con questo non voglio dire che sostengo la versione di Steve maledetta tutto il tempo Henry e vivo erano abbastanza chiare e anche tu lo sapevi hai detto che non avresti mosso un dito liberati di lui e seppellire me talvolta pronunciate con una voce diversa poi si è sentito quello spaventoso un giorno tornerò nel rantolo di uno che moriva ma non ditemi che Johnny non avrebbe potuto fare quei versi dai voi perché volete andarvene tanto in fretta magari posso raccontarvi qualcos'altro se mi torna in mente che mi torna in mente non 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 Grazie a tutti